E adesso passiamo alla pagina dedicata al coronavirus. A Brindisi 16 operatori sanitari sono stati sospesi per non essersi vaccinati e in Puglia aumentano le classi costrette alla didattica distanza per i casi di contagio accertati. In questi giorni la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici in unione con l'Ordine dei Medici di Bari hanno lanciato una campagna pubblicitaria per promuovere la vaccinazione contro il coronavirus denominata Il vaccino ci salva la vita, vacciniamoci contro il Covid-19. In un tuffo nel passato le immagini raccontano le malattie e le epidemie sconfitte proprio grazie ai vaccini. La campagna con il patrocinio del Ministero della Salute sarà diffusa sui canali social attraverso dei clip video. E intanto l'azienda sanitaria locale di Brindisi ha reso noto che 16 dipendenti sono stati sospesi perché non si sono vaccinati, specificando anche che sono 38 gli operatori sanitari ad aver presentato la certificazione di avvenuta vaccinazione. Mentre sono 13 coloro che hanno consegnato la documentazione medica in cui si certifica l'essenzione dalla vaccinazione che sarà valutata in seguito da una commissione. In totale sono 43 le lettere d'invito a vaccinarsi rivolte agli operatori sanitari che non si sono ancora immunizzati e che non hanno motivato questa scelta. Con l'avvio delle attività scolastiche in Puglia sono più che raddoppiati in soli 4 giorni i casi di contagio registrati nelle scuole della regione, passando dalla ventina di sabato scorso a quota 45, costrette così a riprendere la didattica a distanza per non interrompere le lezioni. In base ai dati diffusi dalle 6 asle pugliesi, diverse sono le classi per le quali è scattata la quarantena dopo l'accertamento di positività al covid. Foggia è la provincia nella quale si contano i contagi maggiori con 22 classi in isolamento. Segue l'area metropolitana di Bari con 14 classi ritornate a scuola per le lezioni a distanza. Altri contagi si sono registrati nelle scuole di Corato, Terlizzi, Gravina di Puglia, Altamura, Mola di Bari, Turi e Sanicandro di Bari. Nella provincia Batte è stato accertato un caso nella scuola elementare d'annunzio di Trani dove un alunno è risultato positivo al test. Mentre nel Brindisino sono due le classi alle prese con il virus, una nella scuola dell'infanzia a San Pancrazio Salentino e l'altra in un elementare di Latiano. E si segnalano anche 6 classi in quarantena a Lecce ma nessuno a Taranto e provincia. Ed infine in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 138 nuovi casi su 12.280 test effettuati per l'infezione da covid-19. Sono 4 le persone decedute accertate. I nuovi casi di positività sono stati così distribuiti 41 nell'Eccese, 33 nella provincia Barletta-Andretrani, 22 nella provincia di Bari, 20 nel Foggiano, 8 nel Tarantino e 16 nel Brindisino.